Benvenuti su Gossip Mania TV. Post finale shock. Nuove polemiche e caos con Beatrice Luzzi, me lo volevano. Prima di proseguire, se vuoi rimanere aggiornato sulle ultime novità, ti chiediamo gentilmente di iscriverti al canale ed attivare la campanellina. Negli ultimi tempi, l'atmosfera post finale del Grande Fratello ha continuato a tenere viva l'attenzione sui social e nei circoli del gossip, rivelando dettagli interessanti sulle relazioni tra gli ex concorrenti. Angelica Baraldi ha portato alla luce un nuovo sviluppo, la creazione di una chat WhatsApp che coinvolge la maggior parte dei protagonisti di questa edizione. Tuttavia, tre nomi di spicco mancano all'appello, Beatrice Luzzi, Massimiliano Varrese e Simona Tagli. Sebbene la vincitrice del reality, Perla Vatiero, abbia attirato l'attenzione durante la finale del Grande Fratello, gli ex concorrenti continuano a essere al centro dell'attenzione anche dopo la conclusione dello spettacolo. La recente rivelazione di una presunta rissa durante il party post finale ha aggiunto Pepe alla già calda atmosfera che circonda il programma. Secondo le testimonianze di Stefano Miele, Sergio Dottavi e Mirko Brunetti, sembra che la tensione sia sfociata in un acceso confronto tra due inquilini. Tuttavia, un altro evento ha catturato l'attenzione del pubblico. Durante una diretta sui social, Angelica Baraldi ha svelato il mistero dell'assenza dei tre concorrenti dalla chat WhatsApp degli ex coinquilini. Si è scoperto che nessuno dei partecipanti aveva i numeri di telefono di Beatrice, Massimiliano e Simona, rendendo impossibile il loro inserimento nel gruppo. Questo solleva interrogativi su eventuali tensioni o incomprensioni che potrebbero aver portato a tale esclusione. È possibile che dietro a questa mancanza di contatti ci siano relazioni complesse legate a divergenze personali durante il periodo nella casa del grande fratello. Nel frattempo, Beatrice Luzzi ha dato una spiegazione alla sua assenza al party post finale, rivelando di aver preferito tornare a casa e dedicarsi alla sua famiglia, un gesto che potrebbe aver aggiunto ulteriori riflessioni sulla coesione del gruppo degli ex coinquilini. Le parole di Beatrice Luzzi sono stalte. Ho scelto di non partecipare alla festa, di tornare a casa e occuparmi della mia famiglia. Inoltre, ho visto gli amici del GF fino a due giorni fa. Se la festa fosse stata organizzata magari tra una settimana, sarei andata volentieri a salutarli e a ballare. Ma mi è sembrato un po' eccessivo. Ha anche espresso il desiderio di partecipare a una festa futura, suggerendo che il momento non fosse opportuno. La sua decisione ha alimentato ulteriori speculazioni sulle relazioni tra gli ex coinquilini e sulle dinamiche di gruppo sviluppatesi durante la permanenza nella casa del grande fratello. Lascia un commento alla fine del video e seguici per gli aggiornamenti. Grazie per essere stati con noi. A presto con un nuovo video. Ci vediamo al prossimo Gossip.